Nel 2013 gli stati dell'Unione Europea hanno segnalato frodi accertate o presunte ai danni del bilancio UE per un importo pari a 309,1 milioni di euro, come emerge dalla relazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Le frodi e le irregolarità nei programmi di cooperazione territoriale europea e la corretta gestione dei flussi finanziari europei sono stati al centro della giornata dei lavori, svoltasi nei giorni scorsi a Roma presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'odierno dibattito si pone come primo evento per un inizio seminariale in otto stati, partecipanti al programma IPA Adriatic Cross Border, otto stati in Slovenia, Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia e Herzegovina, Grecia ed Italia. Il primo movimento è determinato da una necessaria analisi sull'utilizzo dei fondi dell'Unione Europea nei programmi di cooperazione territoriale europea e nella necessarietà di porre in essere azioni e misure non solo di rettifica finanziaria, ma azioni e misure preventive nella lotta alle irregolarità e alle frodi. Per il Presidente D'Alfonso, la cooperazione territoriale ha anche l'obiettivo di costruire una solida comunità di istituzioni ed enti preposti alla prevenzione e alla repressione delle frodi e della irregolarità, attraverso il processo di continuo miglioramento delle competenze e la creazione di un ambiente in grado di innescare percorsi virtuosi.